E' partita a maggio la decima edizione dei luoghi del cuore promossa dal FAI. Nato nel 2003 il censimento dei posti italiani da non dimenticare è uno dei più importanti progetti della fondazione dedicati alla sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio. Alterna due fasi, quella di censimento dei luoghi più amati che si tiene negli anni pare e coinvolge tutti i cittadini e quella degli interventi sostenuti dal FAI su alcuni dei luoghi più segnalati. Tutti sono invitati a indicare fino al prossimo 15 dicembre i luoghi che più amano e vorrebbero vedere riqualificati e valorizzati. Ad ogni edizione sono diversi nel Vallo di Diano ad essere segnalati per ottenere i fondi necessari al recupero. Nella classifica provvisoria al momento troviamo ben posizionata con 219 voti al 271esimo posto la cappella della Madonna del Monte a Sala Consilina candidata dall'omonimo comitato di quartiere. Piccola ma imponente la cappella in stile tardo barocco si trova in via Mario Pagano nel centro storico salese. Risale al 1772 un monumento religioso ma i suoi spazi sono capaci di ospitare iniziative culturali di qualsiasi genere confermandosi negli anni luogo di aggregazione oltre che di storia e tradizioni come quelle più propriamente religiose legate ad esempio al rito della vestizione della statua della Madonna. Racchiude un patrimonio di dipinti e statue, l'organo a canne, il bellissimo giardino, tutto semi sconosciuto, necessita di interventi importanti per essere vissuto pienamente nella sua bellezza. C'è ancora tanto tempo per votare, per vedere quali sono i luoghi candidati, conoscerne la storia e le caratteristiche e votarli è necessario collegarsi al sito web www.iluoghidelcuore.it ed esprimere la propria preferenza entro il 15 dicembre. La classifica definitiva verrà poi pubblicata a febbraio 2021.